Anche quest'anno, dal 18 febbraio, le guardie ecologiche volontarie coordinate dalla Polizia Provinciale saranno impegnate nella protezione dei rospi durante la migrazione verso il lago per la riproduzione che implica il rischioso passaggio dalla strada. L'attività consiste nella posa delle barriere a protezione degli anfibi, nell'installazione di apposita segnaletica per gli automobilisti e nella facilitazione nell'attraversamento. Per monitorare la crescita della specie, i volontari tengono il conto degli esemplari maschi e delle femmine durante la discesa e poi durante la risalita dopo la deposizione delle uova. Si tratta di un'attività molto importante per garantire una migrazione sicura agli anfibi verso le raccolte d'acqua, indispensabile per la deposizione delle uova e di conseguenza per la sopravvivenza della specie, commenta il consigliere provinciale delegato alla Polizia Provinciale Stefano Simonetti. L'intervento rende le strade attraversate da aerospi più sicure dal punto di vista viabilistico, prevenendo impatti diversamente non evitabili. La tutela dell'ambiente e del suo ecosistema si realizza anche con queste azioni. La provincia come istituzione, tramite la Polizia Provinciale, conclude, è attenta e attiva nella salvaguardia ambientale, nel preservare il delicato ecosistema dell'aereo già pesantemente provato per la carenza di acqua. Il monitoraggio interesserà le località Melgone, Mandello dell'Ario, Onno, Vassene, Limonta, Olivetto Lario e Boseso Parini.